Ciao a tutti dalla Mente tra le Pagine, benvenuti in questo mio nuovo video in cui vi ho portato un personaggio estremamente interessante da un punto di vista psicologico e forse anche uno dei personaggi più forti, più potenti siano mai stati creati in tutto Dragon Ball, se non il più potente, ovvero il personaggio di Jiren, un personaggio che ha una psicologia estremamente interessante, una psicologia ricca di numerose zone ombrose che è bene rischiarare assieme a voi con la luce della psicologia. Tuttavia, prima di iniziare la nostra analisi, è sempre bene fare le nostre solite due premesse. Per prima cosa, è bene dire che le mie analisi si rivolgono solo ed esclusivamente a personaggi immaginari, quali personaggi di film, fumetti, libri, ma anche dei videogiochi. Nulla hanno a che fare, nulla hanno a che vedere con analisi psicologiche che si rivolgono a persone reali, né tanto meno con analisi psicoterapeutiche. Seconda cosa, è bene dire che se non avete mai visto gli episodi Dragon Ball Super in cui compare Jiren, vi consiglio prima di guardare gli episodi in cui c'è Jiren o di leggere il manga di Dragon Ball prima di proseguire con la visione di questo video. Detto questo, possiamo iniziare la nostra analisi assieme su questo personaggio veramente straordinario. Come diciamo sempre in ogni nostro video, in ogni nostra analisi, se vogliamo conoscere la psicologia di un personaggio, se vogliamo capire veramente certi suoi comportamenti, dobbiamo sempre partire dalla sua infanzia. Nel nostro caso, l'infanzia di Jiren è stata un'infanzia estremamente traumatica. Perché? Perché la sua infanzia è stata rovinata da un evento imprevisto, da un evento doloroso e da un evento che l'ha causato un'estrema impotenza, ovvero la morte dei suoi genitori. Jiren, da bambino tornando a casa, notò che il suo villaggio era stato attaccato da un'entità oscura. In particolar modo, i suoi genitori erano stati ammazzati e i suoi genitori avevano perso la vita, lasciandolo completamente solo, lasciandolo senza nessuno, soprattutto col suo senso di impotenza. Senso di impotenza e frustrazione che lo accompagnerà per tutta la vita, dovuto per l'appunto a questo evento traumatico. Evento traumatico in cui l'entità oscura, di cui tuttavia non ci viene parlato esplicitamente nel manga e nemmeno nell'episodio di Dragon Ball Super, ha causato distruzione e sofferenza. Quindi Jiren, segnato dal suo trauma, si identifica in qualche modo con la forza. Perché? Perché lui si sente impotente, vuole compensare, vuole riuscire a ottenere la forza per far sì che non si verificano più situazioni del genere. Dopo la morte dei genitori, viene preso da un maestro, da un maestro di arti marziali, che diventa il suo mentore. In qualche modo possiamo vedere in questo maestro una proiezione di Jiren. Una proiezione in cui Jiren proietta su questo suo maestro la figura di un padre, la figura di un padre che le è venuta a mancare. Quindi anche tutti i suoi sentimenti, in poche parole, i sentimenti che un figlio proietta sul proprio genitore. Questo maestro è estremamente bravo, questo maestro è estremamente contento di Jiren, tanto è vero che lo allena, che lo fa diventare un guerriero potentissimo. Un guerriero potentissimo che ha comunque il suo desiderio di vendicarsi, il suo desiderio di vendicarsi contro colui che gli ha rovinato la vita, che ha ucciso i suoi genitori. Cosa succede? Una volta cresciuto Jiren forma una squadra, con il suo maestro e con altri membri, perché vuole dare una lezione, barra vuole eliminare l'entità oscura che le ha causato la sofferenza e il trauma della morte dei genitori. Tuttavia, Jiren non riesce a sopraffare questa entità oscura, che uccide sia il suo maestro sia molti dei suoi compagni di squadra. Qui possiamo evidenziare benissimo due cose. Per prima cosa, c'è subito da notare che la morte del maestro di Jiren, per analogia, ha ricordato Jiren stesso la morte dei suoi genitori, in particolar modo di suo padre. Quindi questo può essere stato un evento estremamente traumatico, un evento estremamente triste, che in qualche modo ha segnato nuovamente la vita del nostro alieno, del nostro Jiren in grigio. Seconda cosa da evidenziare, molto interessante, è che c'è una chiusura emotiva da parte di Jiren nei confronti degli altri. Perché? Perché i compagni che sono rimasti sopravvissuti dopo questa terribile esperienza, lasciano Jiren completamente da solo. Lo lasciano completamente da solo e se ne vanno, lasciando perseguire a Jiren unicamente il suo desiderio, baro al suo scopo di vendetta. Allora, Jiren, c'è da dire quindi che dopo questa esperienza di tradimento dei suoi compagni, già era poco incline al dialogo, già era poco incline alla relazione, ma questa esperienza traumatica anche dei compagni che lo abbandonano, lo chiude ancora di più verso le esperienze con gli altri, l'esperienza di comunicazione con gli altri. E ciò li fa rendere contro, li fa pensare che l'unica cosa da perseguire sia l'indipendenza e la forza, perché la forza si ottiene solamente nell'indipendenza. Detto questo, cos'è che c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che Jiren comunque sente il bisogno di proteggere le persone più deboli, le persone più debole di lui, perché non vuole che a queste persone li capitano brutte esperienze come il suo trauma originario, ovvero la morte dei genitori, in cui queste persone si sentono impotenti, tristi, depresse e senza via d'uscita. Quindi con l'andare del tempo si unirà a un altro gruppo di combattenti, i Pride Troopers, con cui stringerà un'alleanza. Nonostante questo, nonostante l'alleanza con i Pride Troopers, Jiren continuerà a rimanere un individuo estremamente isolato rispetto alla squadra, un individuo silenzioso, taciturno e concentrato solo nell'identificarsi con la forza, la forza che diventa il suo scopo di vita, la forza che diventa la sua ragione di vita. Estremamente riflessivo Jiren, estremamente astuto, estremamente intelligenti, ma di poche parole. Quindi ci sarà un torneo tra gli universi, torneo in cui si sfidano, tra l'altro, anche la Terra, rappresentata da Goku, Vegeta, Freezer, C-17 e altri guerrieri, e l'universo di Jiren, ovvero l'universo 11. Importante da dire che Jiren, la forza di Jiren, ha fatto sì che diventasse molto più potente del dio della distruzione del suo universo, ovvero di Belmod. Cosa succede? Succede che durante questo torneo, la squadra di Jiren viene praticamente eliminata tutta, ed eccezione di Jiren, che continua ad agire in via solitaria, continua ad agire in via solitaria e ha un atteggiamento difensivo verso gli altri combattenti. Difensivo perché? Perché se non li reputa degni della sua potenza, lui se ne sta in disparte e adotta uno stile difensivo. Mentre sfoggerà tutta la sua potenza, quando i personaggi sfoggiano anche loro tutta la loro potenza, ma soprattutto quando è guaglia la sua di potenza. Ad esempio con Goku Ultra Instinct, Jiren sfoggerà una potenza straordinaria. Detto questo, cosa succede? Succede che Goku riesce a fare la deleanza con Freezer e con C-17 per battere Jiren. Tanto è vero che, grazie all'unione delle proprie forze, questi tre personaggi, ovvero Goku, Freezer, C-17, riusciranno a battere Jiren. Jiren che cadrà sconfitto dal ring, Jiren che sarà lo sconfitto di questo torneo. Tuttavia specifichiamo subito una cosa. È interessante vedere come molti dati di Jiren assomiglino a quelli del nostro protagonista, ovvero la voglia continua della lotta, la voglia continua di aumentare la sua forza, la ricerca interiore in qualche modo, perché ricordiamo che Jiren è anche una persona estremamente meditativa, estremamente riflessiva, che ragiona su se stesso, che cerca soluzioni dentro se stesso. Inoltre Jiren possiamo dire che è una persona estremamente intelligente e calcolatrice. Detto questo, cos'è che c'è da dire? C'è da dire che la sconfitta da parte di Goku, ovvero quando Jiren è stato sconfitto, può avere sperimentato emozioni veramente dolorose. Perché questo? Perché l'essere sconfitto in qualche maniera gli ha fatto emergere la sua impotenza, la sua impotenza come quando era di fronte ai suoi genitori, quando ha visto i suoi genitori che erano morti e che lui non ha potuto far niente per salvarli. Questa sua impotenza che emerge dal trauma originario e che soprattutto si evince quando viene sconfitto. Quindi può essere costata la sconfitta di Goku per lui qualcosa di estremamente frustrante, qualcosa di estremamente brutto e negativo, che lo ha riportato per certi versi, per analogia al trauma originario, alla perdita dei genitori. Tuttavia è bene anche dire che la sconfitta di Goku per Jiren può aver avuto i suoi lati positivi. Ha fatto di più ragionare Jiren solamente sul fatto che facendo cooperazione con gli altri personaggi, unendo le forze, si potessero veramente realizzare i propri obiettivi. Ciò potrebbe causare una vera e propria crescita in Jiren, ciò potrebbe causare una vera e propria maturazione all'interno di questo personaggio. Quindi è importante sottolineare che Goku è stato utile perché ha fatto capire a Jiren che solamente con la collaborazione si possono raggiungere i veri obiettivi. Solo con la collaborazione si può diventare dei guerrieri veramente potenti. Bene, detto questo, per riassumere, diciamo subito Jiren individuo solitario, Jiren individuo di poche parole perché è rimasto ferito, perché è rimasto ferito da altre persone, quindi in poche parole si è chiuso a guscio anche a livello emotivo, a livello di relazioni sociali, perché aveva paura di essere riferito come nel passato. Seconda cosa da dire da Jiren è il trauma originario che ha causato frustrazione, stress, impotenza, tanto è vero che lui si cerca di identificare sempre con la forza per riuscire a vincere la sofferenza del trauma originario, soprattutto per diventare il guerriero più forte dell'universo. Terza cosa da dire è Jiren, persona estremamente intelligente, persona calcolatrice, persona che vuole sempre dare il meglio di se stesso durante ad esempio le fasi della sua meditazione. Quindi un personaggio con una grandissima autoconsapevolezza di se stesso, anche se dovrebbe lavorare di più verso il suo trauma originario che può continuamente agire a livello inconscio, ciò gli causa anche sofferenza, gli causa anche il fatto che molta della sua energia psichica sia incanalizzata nella gestione del trauma originario tramite il meccanismo della repressione e soprattutto Jiren che se riesce a collaborare con gli altri personaggi può diventare un avversario veramente straordinario, forse l'avversario più forte sia mai stato creato in tutto Dragon Ball. E forse anche il combattente più forte di Goku in poche parole, un combattente che può essere molto più forte di Goku, almeno da come ce lo hanno presentato, da come ci hanno indicato questo personaggio. Bene, noi siamo giunti alla fine dell'analisi di questo personaggio, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me fino alla fine, vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video e soprattutto lasciare i vostri commenti perché sono molto piacevoli da leggere e costruttivi, sia per me sia per altri utenti che si avvicinano al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, un caro saluto dalla mente tra le pagine, ciao e alla prossima, grazie a tutti per la visione, ciao!